Avrebbero costituito un'asse di rifornimento dello spaccio di stupefacenti fra Catania e la provincia di Enna. Così, un'operazione antidroga della polizia denominata Effetto Domino ha eseguito provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di cinque persunti esponenti del clan criminale. Sono stati portati in carcere Mario Domina, di 49 anni, rintracciato stanotte in provincia di Torino e catturato con la collaborazione della squadra mobile di Torino e Mario Russo, di 45 anni, mentre sono ai domiciliari Costantino Russo, 24, Filippo Racuglia, 29 anni. Gli inquirenti hanno individuato i pusher con numerosi sequestri di droga, intercettazioni telefoniche e ambientali. Gli indagati nelle conversazioni parlavano esplicitamente di erba, stecche, droga e della qualità e quantità dello stupefacente disponibile. A capo del gruppo, Mariano Domina, che conosceva tanti pusher del capovlog Teneo. Mario Russo invece si occupava di spacciare a Leonforte e a Nissoria, con la complicità dei vari pusher, alcuni dei quali coindagati. Il mercato locale per lo spaccio di droga veniva poi gestito da Costantino Russo, che spacciava con l'aiuto di un minorenne. Gli inquirenti hanno scoperto che gli assuntori della zona, che in talunica si in realtà erano anch'essi spacciatori. L'indagine, svolta dagli uomini della squadra mobile di Enna e del commissariato di Leonforte, hanno permesso così di scoprire una rete di persone che spacciavano marijuana e cocaina nei comuni delle province di Catania ed Enna. Nell'operazione è stato impegnato il personale delle squadre mobili di Torino, Catania e Reggio Calabria.